E' stato inaugurato questa mattina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia il 35esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Alla cerimonia ha partecipato tra gli altri anche il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tagliani. Ad aprire la mattinata il Rettore Giuseppe Novelli che ha ricordato quanto fatto in questi ultimi anni dal suo Ateneo per aprirsi al mondo delle imprese e verso una collaborazione con le altre università. Professor Novelli, si apre questo 35esimo anno accademico dell'Università di Tor Vergata nel segno e nella continuità del percorso che hai già intrapreso, quindi dialogo, comunicazione, collaborazione con altre facoltà e con le imprese. Sì, alla grande. Diciamo che è stata una bella manifestazione che abbiamo lanciato la nostra voglia di dinamicità, di essere attivi e soprattutto propositivi nel fare che cosa? Lanciare i giovani, scoprire i talenti e produrre idee. Idei che devono poi diventare qualcosa, un prodotto, un'impresa, uno spin-off. Noi l'abbiamo chiamato spin-in perché abbiamo detto di portare le aziende dentro l'università per migliorare un prodotto che già c'è e per renderlo innovativo. E questo lo possiamo fare grazie al fatto che noi abbiamo le idee e i giovani. Ed è fondamentale il rapporto tra aziende, imprese e università oggi. Questo è stato sottolineato anche dagli altri relatori che si sono susseguiti, compresi il Presidente del Parlamento europeo, che ha sottolineato l'importanza di questo rapporto per poter andare avanti e produrre conoscenza, che è l'obiettivo principale e anche, se volete, il modo in cui l'università esiste. L'università esiste perché crea conoscenza. Se non creiamo più conoscenza, l'università muore. Ricerca, innovazione, sostenibilità e inclusione sono il cuore della missione dell'Ateneo di Tor Vergata in base ad un piano di azione ispirato dalla strategia europea 2020 e ad un programma di lavoro strutturato secondo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tagliani, nel suo intervento di saluto, ha ricordato come nei nostri Atenei si trovano le fondamenta della civiltà europea, forgiata da secoli di scambi, pluralità di pensiero, dialettica di idee, arte e scienza. Ha anche sottolineato che l'università oggi deve essere protagonista della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico, dell'innovazione industriale e dell'eccellenza del sapere in tutte le sue forme, esprimendo anche la sua soddisfazione nei confronti di Tor Vergata per l'impegno e la cooperazione con il mondo dell'impresa e della società civile. In chiusura, la prolusione del ricercatore Francesco Tombesi, che dopo aver conquistato la copertia di Nature per il respiro dei buchi neri, è diventato il simbolo di una virtuosa circolazione dei cervelli, ossia dell'antifuga. È un onore per me, questo era il mio primo anno accademico qui a Tor Vergata, all'università giovane, 35 anni, alla mia stessa età, quindi spero di poter crescere anche in questa università insieme. Sono stato molto felice di poter mostrare della ricerca che faccio io, in astrofisica, insieme anche ai miei colleghi qui al Dipartimento di Fisica di Tor Vergata, in un'area che offre tantissimo dal punto di vista spaziale per i vari istituti che sono qui nel campus.